Due trasferte per Messina e Palermo per definire meglio il ruolo che queste due squadre intendono esercitare nel campionato di Serie C. La CR Messina domani alle 17.30 sarà impegnata nella difficile trasferta di Foggia con l'ex Zeman, squadra che ha già incontrato in Coppa. Il Palermo lunedì alle 21 se la vedrà contro la Juve Stabia. Stesso discorso vale per le compaggini messinesi impegnate nel campionato di Serie D. Domani il Football Club Messina, corroborato dai nuovi acquisti, sarà in trasferta contro il San Luca, mentre il Città di Sant'Agata riceverà la San Cataldese per ribadire, con una vittoria, quanto di buono fatto nella partita scorsa. In eccellenza per la momentanea indisponibilità dello stadio dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata posticipata il prossimo mercoledì la partita tra Igea Virtus e Palazzolo. In promozione domani dalle 15.30 si sfideranno nel Grand Derby Tirrenico Roccaquedolcese-Torrenovese, poi giocheranno Milazzo e Profalcone, Stefanese e Promende. Infine il Girone di di prima categoria, con partite interessanti tra l'area tirrenica e i Nebrodi, Galatina-Sitana, Longimi-Stretta, Nuova Rinascita-Rosmarino, Pro-Orlandina-Furnari, Tortoriscia-Luntina e riposerà il San Fratello. Nel Gironelli, Parifolgore, Melas-Rodimilici, Riviera-Monforte, Stefano Catania-Iuvenila e riposa il Villafranca.